ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo plantera 2 golden haecorn anzi haecorn che significa ghiandala fin fine ok non vedo nessun menu quindi clicco ok ottimo e non c'è più niente morto tutto e quindi devo cliccare un'altra volta non lo so vst si muove la camera non lo so acqua impostazioni option famiglia lingua non si può cambiare in ok audio tog bubble bubble va bene info credit play ma così muovo però non so come non so come si muove il personaggio ok soprattutto dei tasti ma non capisco a forse devo fare semplicemente così aspetta vado di qua no 5 gold per andare di qua no questo oddio non ci ho capito niente allora compra questi e li pianto qua ok a forse ho capito e monoschermo c'è solo questo ho piantato ok chiudo questo boom ok ho preso un coso prendo questo il pesce sto raccogliendo i porri raccolgo anche le farfalle prendo una ho preso una fragola ci sento una rana sono le farfalle ma non le posso raccogliere si adesso si adesso di nuovo nel frattempo raccoglie faccio soldi ho capito bomb ok prendo il pesce farfalle crescono c'ho 21 gold preso ok vediamo cosa possiamo comprare con 21 gold 21 gold posso comprare questo e lo piantiamo il cespuglio di fragole qua ok chiudo nel frattempo raccolgo nel frattempo lui raccoglie ok ci abbiamo il cespuglio di fragole talpa abbiamo 29 ok due pesci presi è tipo il giochi dove spari con la pistola ho preso questo coso qua sono arrivato ah c'è un altro pupazzo un altro pallablu chiameremo proprio pallablu adesso una raccoglie di qua una raccoglie di qua 43 soldi posso comprare un albero di mele che lo mettiamo qua ok ma questo albero qua cambierà mai non so posso fare così ma se ne è andato uno no si è messo qua accogliamo le mele qua 500 pesce posso velocizzare ok posso premere io e poi loro li raccolgono oppure li raccolgo io direttamente ok 70 cosa posso comprare con 70 no questo è loccato 5 stelle no scusate 5 stelle questo next ah ma tanta roba c'è questo toggle layer ok mi rubano le cose quella le cornacchie ok 93 4 gattino non so perché la musichetta è diventata tipo terrificante però va bene posso comprare qualcosa vediamo sbloccato il gattino lo compro place place ho un gattino adesso e che fa non lo so raccogliamo anche questo cosa fa il gatto sta lì e fa i gomitoli tu vai via cornacchia pesce prendiamolo fa i gomitoli ci lascia un gomitolo e non lo raccogliamo vai via pesce pesce questo cos'è ho scacciato via il topaccio no il pesce l'ho perso no il pesce l'ho perso preso talpa talpa cornacchia pesce 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 2 pesce pesce Ok, sta incominciando a diventare sempre più frenetica la cosa Ho trovato carota filontro Non so cos'è, girasole Quindi ci ha sbloccato qualcosa, suppongo Ho preso anche una coccinella Quindi se io vado qua, faccio questo Girasoli Qua Ne voglio due Tre E quattro Che serve per bellezza No, pesce Palletta di fieno, topo, pesce Pesce Fragole Cornacchia, porro Qua c'è un pesce Pesce Questo qua Non salta quello Ok Un attimo di tranquillità Allora Talpa Soldo Ho questo preso Questo Cornacchia Questo Questo è pesce Grande Il pesce Ora il pesce salta Cornacchia Ok, abbiamo sbloccato qualcos'altro Qua Le carote Le carote Che le piantiamo qua Stai che le carote Ci stanno un po' di più A crescere Raccogliamo tutto Siamo quasi a livello 6 Livello 6 Un altro Palla blu Che ci raccoglie le cose Allora Facciamo così Via la cornacchia Peccato che devo fare a destra e a sinistra Sarebbe stato bello Tutto su un unico schermo Invece di fare a destra e a sinistra Però ci sta Ok Posso Ah Posso espandare Espandiamoci Ah Ecco perché Perché così puoi fare Espansione a destra e a sinistra Possiamo comprare qualcosa Questo Lo mettiamo Qua Spuglio di mirtilli Credo sia Ok Questo è questo Il pesce l'ho perso Il topo lo ammazziamo Accogliamo questo Ad alpa Mi diamo un colpo Ok E poi accogliamo anche questo Accogliamo questo Pesce Pesce ci dà due Di soldi Quindi Cornacchia Che ruba le cose Il pesce Madonna Il pesce ci dà due Dovevo prendere il pesce Più velocemente Uh La talpa ci dà sei Poi c'è questo 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 Non ci dà niente Ok E possiamo comprare Cosa I cappelli Due E tre Ok Non so a cosa servono Però forse per bellezza No 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 Ci stava rubando la fragola Quello E sei pazzo La fragola è mia Si sta intensificando la cosa Aiuto Ok Raccogliamo un po' di robe Che sono tutte a terra Farfalla via Ok Ok Siamo tornati un pochettino Quasi Il topo La cornacchia Il pesce Le farfalle Livello 7 Signori Ad alpa Cosa abbiamo sbloccato Fa vedere Sbloccato L'albero Questo Che andrò a posizionare Qua Sarà l'albero Di mele Forse Si sta infettando La situazione Ok Prendiamo anche queste Prendiamo queste Questa Ad alpa Ad alpa E questo qua Ok E il comitolo Perfetto Raccogliamo tutto Ottimo Ci siamo Un attimo di tranquillità Prendiamo questo Controlliamo se non ci siano C'è il sorcio Il sorcio c'è Ma no Il sorcio che scappa Perché il gatto non fa niente contro il sorcio Cosa ha fatto il sorcio Non lo so Ha fatto qualcosa però Perché poi non potevo più cliccarlo e E bastonarlo Quindi è passato tranquillamente E ho sbloccato qualcosa Prendiamo il pesce Nel frattempo Stellina Cosa fanno questi Cosa fanno questi Posizioniamo Cioè Sta passando il sorcio No Ah L'uccellino E che cosa fa l'uccellino E che cosa fa l'uccellino Non lo so Ci lascia una piuma Che vale 5 Sorcio Ok Piuma Piuma vale 5 Io non ho capito come faccio a fare i punti livello Cioè ogni volta che raccolgo faccio punti livello? Sì Forse sì Quindi non quando chillo Gli animali O prendo qualcosa Ok Preso No non voglio espandermi adesso Aspetta 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 Prima di espanderci Volevo provare Arrivare al livello 8 Prima E vedere cosa ci sblocca Ok Tutti Tutti i porri Non si riusciamo a pulire tutto Ok Il topo Il topo Via 1, 2, 3 La piuma la prendo io I girasoli Non ho capito cosa fanno Uuuuh Abbiamo sblocato Livello 8 Albero Ok Vediamo Raccogliamo tutte ste robe 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok abbiamo raccolto tutto Cosa abbiamo sbloccato? Questo La gallina La gallina Dovebbe essere la gallina Questa farà All'uovo La gallina No Aspetta Vabbè Spendiamoci Si stiamo espanditi È arrivato un altro Palla blu Con l'espansione Quindi una volta che abbiamo Ce n'è un altro Che gli manca il cappello Tra l'altro Quindi lo andiamo a comprare Chi anda? Oh abbiamo spanzo Noo L'albero di chianda È diventato più grande Ottimo Abbiamo comprato Un albero di chianda Più grande Ok Quindi la Cos'è? La quercia? Attempo raccogliamo Tutta sta roba Che cos'è questo? Ok Via questo Via la cornacchia L'uovo Vediamo tutte le farfalle E via Ti di tutto c'è Ok Preso Escriviamo quello lì Che penso sia un raccoon Pesce La cornacchia Che ci ruba le cose Ok Pesce Quello ci diamo tre colpi Questi li prendiamo Prendiamo anche il pesce volante Il doppio pesce volante Attenzioni Farfalla Due colpi a questo Ci prendiamo l'uovo Pesce Pesce Cornacchia Pesce Talpa Cornacchia Doppio pesce Farfalla Triplo pesce Quadruplo pesce Piume Cornacchia Pesce Porri Ok Questo qua Gli diamo tre colpi Ah Ok Ci siamo Pesce Questo Topo 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 Ok Ok Ci siamo Via Wow Abbiamo quasi Clinato tutto Vi ho raccolto tutto subito Ottimo Abbiamo le piume da raccogliere E vai via Cornacchia Cornacchia torna sempre Cerca sempre di rubare qualcosa Volevo comprare un cappello io Eccolo qua Non so a cosa serve però No Aspetta Pesce al volo L'abbiamo preso Livello 9 Ghiandola fungo Aspetta Facciamo di raccogliere un po' di roba Quello è il nostro gatto Ok Ah è arrivato un altro Di quelli là Gli devo comprare un caschetto Topo Ehm Caschetto In più abbiamo sbloccato I funghi Che andremo a piazzare qua Due Tre Quattro Ok Non so se loro raccolgono anche Dagli alberi Oppure no Se abbiamo sbloccato Qualcos'altro qua Topo Cos'abbiamo sbloccato I funghi Già l'ho fatti Ah no Avevo sbloccato Questi Le cipolle Pesce Troppo pesce Quattro pesce Come impazzire Attenzione Vai via Guarda 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 Mi stava rubando la cornacchia Tutto Uh Cipolla ci dà tre Compriamo l'espansione Ci spandiamo Ok Farfalle Petalo Ho perso la talpa Nel frattempo è arrivato un altro pallabla da aiutarci Gli compriamo un caschetto Che cos'è questo Un coniglio Forse Potrebbe essere un coniglio Quello lì Cornacchia Pesce Stiamo diminuendo Achievement Siamo in fase di diminuzione di Di qualcosa Guadagniamo troppo poco Ci stanno fregando No no cos'è il coniglio Poi i porri Che nessuno li raccoglie più oramai Le farfalle Raccogliamo tutto questo Insieme al pesce Che vola Cornacchia Vediamo se la cornacchia Ci dà di più Quando ha un oggetto Fare sta prova Il sorcio Lo togliamo Facciamogli prendere un qualcosa Vediamo No Non ci dà niente Sono solamente elementi disturbanti Quindi Siamo arrivati quasi al livello 10 Chiediamo un colpo a questo C'è qualcuno dietro a questo Le mele Cespuglio Le mele Il sorcio Gallina No gallina è nostra Il raccoon Due colpi al raccoon Il pesce al volo La cornacchia E il pesce Raccogliamo questo Siamo al livello 10 Questo Cornacchia Quello La cornacchia Il pesce E come diventare pazzi E il cappello Di un altro cappello Abbiamo Andiamo a vedere cosa fa il cappello Allora Vediamo un po' Ah questi Il mais Ne voglio Due Tre E quattro Ma sono per bellezza Per decorazione Oh Oh Ma ci è stato l'assalto Proprio Ci stanno Massacrando Ma che è? Cos'era Cos'era quel coso? Ah il mais si può raccogliere Raccogliamo tutte ste farfalle Coniglio Coniglio Mais Ok Ma che è? Intanto sento una scoregia Tipo Conte è uno di questi tre E le farfalle Le mele Un, due, tre 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 Questo Ok La talpa Ci spandiamo di qua Raccogliamo la piuma Ok E questo qua Ok E' arrivato Questo Qua lo mangia Secondo me Uno, due E tre Ci serve un cappellino Abbiamo un Cappellino rosso Compra Ai nuovi arrivati Gli diamo il cappellino rosso Stanno mangiando tutti qua Ci stanno fregando Vai di cipolle Vai pesce al volo Cornacchia Via Raccoon Gli diamo tre colpi E lo mandiamo via Topo Pesce Pesce Madonna mia Che doppietta sul pesce Poi Raccoon Topo Sorconiglio Facciamo un po' di piazza pulita Occhio Occhio Ok Questa è a livello 11 Abbiamo clinato un po' Guarda 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 Pesce no ho mancato due colpi a tre colpi a questo Ok Ok Pesce Cornacchia Mirtillo Fragola Mais Mais Ce ne sono le pannocchie Prendiamoci anche questo Costituiamo un colpo Ok Ci sono intrusi No Ma intanto passa il guerriero Ci dà un sacco Dei sordi Siamo andati a livello 11 Cosa ci ha sbloccato? Un albero di Pere Coccinella Questo lo facciamo fuori Le pere Ok Se gli diamo un colpo Questo lo facciamo così Due colpi a quello Troppa roba Questa l'abbiamo già killato Ok Colpa a questo Colpa a questo Colpa alla talpa Sono un macinatore di soldi Praticamente Piuma Piuma Cornacchia Pesce Dai dai Spunta talpa Bravo Racoon Pere Prendiamo tutte le falfalle Pesce Fragole Un colpo alla cornacchia Anche al coniglio Ok Vediamo anche il colpo a questo Poi gli diamo un colpetto Via Piuma No Se la stava rubando Se la stava rubando Visto Ok Farfalle Ok Wow Farfalla Mele E fragole Tre colpe al racuno E un colpo al pesce Vai Questo Coniglio Topo Sorcio Di tutto c'è Ok Questo è il nostro Vada 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 Che se la ruba Vada Buttiamo giù Questi dagli alberi E adesso Andiamo a raccogliere Tutto Aspetta di qua Perché Ogni tanto Arriva la cornacchia Di qua Ne per Questi Il raccogno Il coso Quello Quell'altro Eccolo qua Mi sa che è una cornacchia Se Si è preso qualcosa Pesce lo prendiamo I porri Li sganciamo E L'albero Di pere Siamo quasi A livello 12 Ci siamo Quasi Buttiamo Dall'albero Questi qua Buttiamo giù Via la cornacchia Via via Pesce Se lo andiamo via Pesce Raccogliamo tutto questo Due colpi a questo Un colpo a quello Madonna Che è arrivato La fauna Selvatica Le pere E questo E poi Raccogliamo tutto Questo Le pesche Credo siano pesche Quelle là Poi le mele La cornacchia Via Ok Livello 12 Cosa abbiamo sbroccato Il maiale E poi ci da Questo Ah L'ho steccato E poi Una ghianda Che non so Cosa serve Qua sta crescendo La ghianda Vediamo Quando cresce La posso raccogliere Tutto Fa presagire Quello Andiamo 20 La ghianda Ci da 20 Signori E due colpi A questo Perfetto Signori Bene Siamo dilungati Un po' Eccolo qua Il maiale No questo È un cinghiale Non è il maiale È un cinghiale Gli diamo un cappellino A quello Era un cinghiale Arrivano i cinghiali Adesso Bene Signori Per oggi Io direi Che è tutto Spero che Vi sia piaciuto Questo gameplay E Naturalmente È una preview Del canale Come tutte le preview Non lascio Un Commento Né un Feedback sul gioco Lascia voi decidere Se vi piace oppure no Potete iscrivervi al canale Se vi va Lasciate un commento Un like Per supportarlo E Come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye